Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo sul nuovo video con Lore Grazie, eccomi, ciao GTM Matti Ciao E cordiale Balla Ah, ricordate, nel negozio GTV, mettete il codice Playmojito Se non lo fate, clic clic, GTV, toc toc a casa vostra Reassumendo quindi, prima di iniziare, ricordate di mettere like al video, iscrivetevi al canale E inserire il codice creatore No, è un po' messo spray Playmojito, codice creatore Playmojito Entratene, livello 1, 10, nube invece di 20 11, 20, pro 21, 30 31, 32 Ah, ma allora ci sono 32 livelli Esatto, allora partite, vediamo a che livello arrivate Pronti? 3, 2, 1 Si parte 10 minuti per raggiungere, finire la challenge Finire la death run, va bene? No 10 minuti al massimo, poi vediamo a che livello siete arrivati Lo vediamo il primo Allora, si tratta di saltare questi ostacoli, tutto qua Facilissimo Chi è primo? Allora Ok, grazie Allora Cricchio quello che i capelli viola e con l'ascia Sarebbe Secondo! Secondo! Il gatto dorato chi è il gatto dorato? L'ore Gli altri non li ho visti, dove sono indietro? Indietro Siamo indietro Non ci credo, sono morto Dov'è il punteggio qui? Dov'è il punteggio? Non c'è Sono secondo Sono No Non mi è saltato Ma non riesco a fare questo È impossibile questo Ma i livelli dove li segna? Beh Eh Di segna qua Dove? Qui sopra A livello 10 Sono già un pro Io sono già un pro Addirittura Dopo il livello 20 Sei arrivato Se ci sei impulso Le doppie impulso Non lo so fare Ragazzi Io ne ho fatto le doppie impulso No Anche l'ho fatto Come ci sono i doppie impulso Sono una morte Che bello Sono una morte No Non ci credo Livello 10 Livello 10 Ho capito Fatto A livello Mattia Per me Farcala Sarà un po' più difficile 11 Che bello Muerte Chi è a livello 20 Io quasi Io quasi A livello 20 Diventate pro 11 No a livello 10 Pro A livello 10 Pro Perché siamo 11 Che livello Siamo 11 11 E 30 Mi sembra No H Sì 32 livelli Sì E impegnatevi Quanto manca Io ce la sto facendo Mancano circa 8 minuti Sì ce l'ho fatta Livello 12 Oh Beh Tutto è facile Io sono a livello 14 Chi è a livello 14 Lorenzo Non lo conosci Io No Anch'io sono a livello 14 Wish Qui non vi segni i livelli Sulla schermata No Ok no No Non è vero Guardi Veramente si è a livello 14 Sì Quanto è Sono dietro Ah ecco Ciao No Dai Siamo Parti insieme Sette minuti Al termine Mi sono passati Tre minuti No Sbaglio Siamo pari Io sono a livello 13 Sì Ok Come fai a passare di là Ah Mamma mia Difficile Ma è fatta Mi la so fare Ma mi devo abituare Dai Non ci sto riuscendo Perché non l'avevo capito Allora Ragazzi Quando ho superato Il cuore Per un pelo Ragazzi Quando ho superato Un livello Ditelo Ok Almeno sappiamo a che punto siete Superato 1 No Che numero 6 Che numero 6 Quattro 14 Eh nessuno è pro Allora Ah no Pro a 10 Ah sì All'11 No ai 10 No 15 Sono al 15 E da Al 20 E anche fatta Al 20 21 Come fanno a fare la curva Scusa No Da Dal 11 Al 20 Sempre Pro Dal 21 Al 32 No E dal 21 Al 29 E al 30 Livello superato Che numero 6 Livello superato Vito il numero Anche Anche a 15 Io la rete Siamo a 15 Dai Ma impossibile Dai Ma impossibile Vai Ok No Ma è impossibile No Fatto un altro livello Ci sei riuscito Non riuscire Non riusciamo a superare Quello Eh sono a 16 Di saltare A rientrare Ma guarda che anche tu Stai a 16 Guardi Perché Mi metti fretta Con questi 10 minuti Ok Non dico quanto manca Allora Solo gli ultimi 30 secondi Ho fatto anche a fare Quelli In 16 Anche io Non ci credo Non devo salciare No Era quasi Mi devi schivare Le troppo le mo Perché ti ha aiutato Sì Vai però Superato un altro livello Il numero Dovete dire il numero Io sono a livello 14 Dicione Dicione Dai perché fa Devi girare subito Ma non ti facciamo la mano Cri devi stare Ok Ce l'ho fatto finalmente Livello Superato un altro Sono a livello 19 Ma questo Deve entrare dentro la porta Lo suffare Quasi Il fatto Livello Ci sono Gli hater A livello 17 Ho capito C'era anche La speed L'intero è al 20 Vero Io sono 19 Anche io al 19 Anche al 19 E però è che No allora Anche io al 20 Anche io al 20 Dal click li stai raggiungendo Io al cordiale siamo Io al cordiale siamo Anche 19 Il livello più alto qual è 32 Go Che livello sono Io al cordiale siamo 19 Ma Premaito comunque io al cordiale siamo A livello 19 E siamo Sono No 19 Sono Sì perché l'hacker L'hacker è al 20 O al 30 Sì l'hacker è al 20 Mi pare Lo scopriremo vivendo Dai però Che parma No Mi mancava un salto E finivo Dai però Deve fare così Guarda Allora Deve guardare Dove Deve fare come Allora Mettiti dietro Abbassati la visuale No l'avevo fatto Dai uno E passi di categoria Sì ma se non riesco neanche a fare questo Sì io non ti vedo Io non ti vedo Io non ti vedo Allora livello 19 Al 20 diventi pro Va bene Vero Aspetta ore Vai No non mi salto Oh finalmente Non c'è Messo Livello 20 20 per critica Oh mio 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 Il critico E allora Guarda Tutti che da playstation Allora Tutti abbassi Abbassati la testa Salti all'ultimo Ed è fatta Sedi Prova a saltare Corri E la visuale Tiene da bassa Primo Ma io non vedo Nessuno Dire No no Non siamo in diretta Scusate Un video Che metto Stasera O domani E poi Quanto arrivo Lì No Accordi Sì Ce le fa Ragazzi Mi manca l'ultimo Play pro Allora 3 No Ok 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 Mi manca l'ultimo Salto Ragazzi Facciamo Fai Sì No Quando è finito Il video Beh Vedrà Passo Troppo Rai A giocare Da Non lo so Fare Ce l'ho Fatta Ce l'ha Fatta Fatta Il livello Del pro Lo Fa Grazie Avello 21 Che Fare Ho Già Finito Qui Manca un minuto Perché l'hai detto Per finire la challenge Adesso come faccio Dai Bisogna concentrare Terminato un altro Ok Quando scade la challenge Diteci i vostri livelli Poi Io sono al livello Non lo so Mi pare 21 Ma 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 a che livelli Ci sono Gli hacker 30 No Mi ricordo Al livello 30 Mi sembra No Impossibile Cri 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 Che livello 6 20 26 Pro Ma è impossibile Io sono al livello 23 Mancano 10 Secondi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Challenge Finita Cri Cri Livello 20 Voi a che livello siete arrivati 23 20 Pari merito Conchi e Lorenzo Sì 23 Chi è Io Io Cordiale Direi Accordiale 23 18 Maggi JR Maggi Giusto Quindi questa è la classifica finale Vince Cordiale E Vince Che vince Niente Un biscotto La challenge Noob Versus Pro Versus Hacker Versus God Finisce qui Si aggiudica il titolo di vincitore Cordiale Bravo Se questo video Vi è piaciuto Vi ricordo di usare Il codice Playmojito Nel negozio Oggetti Lasciate un like Per Cri Cri GTV Ciao a tutti Alla prossima